Ciao a tutti, lì è Luì, e lei è Sofì, e oggi siamo in un nuovo vlog, metto le cose dentro la borsa, stiamo per andare a Palermo per vederci con Mettebise e andare a mangiare insieme, perché ci sono venuti a trovare Sicilia, quindi a tra poco, ciao ragazzi, allora Luì è salito a casa a prendersi la sciarpa perché altrimenti si raffredda, povero piccolo, e io sono qui e mi annoio, mi annoio, cantiamo una canzone? Nella vecchia pattoria, c'è Sofia, basta di smettere, perché se a caso mai vengono i genitori di Luigi qua sotto e mi trovano qui, mi vedono che parlo alla telecamera, mi prendono per pazza Che c'è? Deanna ha finito di celare In verità noi stiamo però mangiando Voi non contate Mi è venuto il diabete Matt è talmente deficiente che pensa che Bise sia sua madre veramente Io Non l'ha fatto veramente Perché prende in giri passi? Tu non stai bene Tu non stai bene Ah scusate Non volevo Ti amo Attenzione 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 Sofia appena fatto il compriano Aiaiaia 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 Aiaiaiaiaiaiaiaia Aiaiaiaiaia Questa torta è più grande di me Buona torta Ciao stiamo andando a fare lezioni di canto Guardate Oggi il ciuffone è tipo Parruccone sembro Non lo so Oggi Sei sempre così Allora io oggi sono tutta rossa come potete vedere Tutta vestita di rossa o anche la ciungame rossa Guardate E quella è la fragola Ed è rossa Ho gli occhiali e qui c'è una cosina rossa Ma io ho veramente i capelli a parruccone Sempre Veramente Ciao signora Guardate Luigi Com'è concentrato mentre guida Lui al ritorno guido io No tu sei pazza Non sono pazza Sono bravissima Io sono una pilotessa Guarda che è la Ferrari Ragazzi ma la vera domanda è che ci fa Una mano gonfiabile nella mia macchina Ciao salutami Luigi Luigi Ho gli occhiali Voi non mi avete mai visto con gli occhiali Non è che vi siete spaventati Giusto? Guardate Che difficile sono state Ciao Ciao Torta Buona Buona Abbiamo appena finito di registrare Delle cose super esclusive E adesso ci stiamo godendo una bellissima E buonissima E se io ti rompo con la tua? E se io ti rompo con la tua? No Mi è rimasta pochissima No 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 Troppo buona Bravo Bravo Vieni qua con me Adesso io ti spacco tutto Capito? Io prendo il bicicletta Distruggo ok? No 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 C'è la guardia di finanza Stiamo scherzando ragazzi Abbiamo abbattuta Guardate qui Wait Non sono così realmente Facciamo il birichino La finanza non mi fermano Che paura Stiamo andando restando a visa Ma è possibile che noi veniamo per la terza volta in Sicilia Ogni volta piove Basta non ci vediamo più in Sicilia Spettino Non è mangiato a Palermo Ma mettiamo i buttini su lei Stiamo a sentire come parlano il siciliano Sentiamo il vostro siciliano Allora Ambare Fratello Fratello Ti balli brutti Bellissimo Speriamo questo mini vlog vi sia piaciuto E vi state divertiti di nostra compagnia e dei nostri amici Adesso noi andiamo a casa e andiamo a letto perché siamo stanchi domani a scuola Come sempre vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram e Twitter E al prossimo video Ciao